in questo video tutorial vi voglio mostrare il procedimento per realizzare una pochette con mattonelle all'uncinetto in questo caso l'ho chiamata fiore africano proprio perché la mattonella è quella del fiore africano oltre al cotone come ligghi della tessiland quindi adatta un uncinetto tra i due millimetri e mezzo e tre millimetri sono andata ad utilizzare un pezzo di stoffa per foderare e anche un pezzo di feltro per indurire in alternativa potrete utilizzare per esempio un termo indurente soprattutto se come me lavorate con il cotone che non è sufficientemente sostenuto da solo poi mi sono procurata una polsiera ed ho selezionato anche una catena per poter portare la pochette a tracolla per rendere agevole lo scambio tra queste due opzioni ho inserito durante la lavorazione degli anellini per quanto riguarda la scelta della mattonella potete optare per una mattonella qualsiasi e durante questo tutorial non vi mostro il procedimento della mattonella ma all'interno del canale nella playlist dedicata alle mattonelle granny trovate anche il fiore africano così come le classiche granny o altre mattonelle utili quello che vi mostro quindi è il procedimento e la struttura con cui realizziamo la pochette fatta in questo modo a partire da mattonelle quadrate e poi vi faccio vedere come realizzare una serie di giri di rifinitura comprendendo l'inserimento degli anellini vi lascio subito un riferimento sulle misure della mia pochette in larghezza o circa 23 24 cm che sono un pochino di meno qui alla base perché come vedete la forma non è regolare non è né un cerchio né un rettangolo né un quadrato ma è un pochino stondato in altezza la mia pochette è di 20 centimetri per quanto riguarda le singole mattonelle ogni mattonella è circa 7 8 centimetri per lato partiamo quindi dalla comprensione della struttura della nostra pochette che vedete qui sul foglio e anche in questo modellino una sorta di carta modello ci serviranno quindi una due tre quattro cinque sei sette otto e nove mattonelle intere e poi ci serviranno anche una due tre e quattro mattonelle a metà come vi dicevo poco fa nel mio caso ogni mattonella misura circa 7 8 centimetri per lato il risultato una volta unite tutte le mattonelle dovremo ottenere questa sagoma quindi dobbiamo eseguire delle cuciture tra le mattonelle che seguono queste righe andando magari a scegliere la tecnica di cucitura che più ci piace che può essere con l'ago piuttosto che con l'uncinetto e poi cercando di eseguire queste cuciture minimizzando i tagli di filo una volta completato il lavoro ci ritroveremo quindi con questa geometria di borsetta queste mattonelle che vedete in arancione le ho colorate ugualmente da una parte e dall'altra perché sono appunto la stessa mattonella piegata così come questa blu che è a cavallo queste sono due metà che vanno sulla parte superiore e due metà le trovo dalla parte opposta una volta quindi realizzate nove mattonelle intere e quattro mattonelle a metà le andrete ad unire con la vostra tecnica di elezione nel mio caso io ho fatto un'unione con uncinetto a maglia bassissima e conto di inserire presto nel canale un video dimostrativo di questa tecnica per prima cosa quindi andiamo a realizzare le mattonelle 9 mattonelle intere quadrate e quattro mattonelle a metà se volete utilizzare il fiore africano qui nell'info box trovate il link al tutorial dopo aver realizzato le mattonelle le andiamo ad unire seguendo lo schema che vi ho mostrato qui e poi proseguiamo il lavoro insieme andando a realizzare una serie di giri di rifinitura qui in alto una volta terminata l'unione delle mattonelle il risultato sarà questo quindi la nostra pochette avrà preso forma a questo punto andiamo a fare una serie di giri di rifinitura a punto basso qui sopra e nel frattempo inseriamo anche due anellini come questi che ci serviranno come riferimenti per poter poi inserire una tracollina oppure una polsiera prendo quindi il filo e mi inserisco in un punto qualsiasi vado ad iniziare poco prima di questa zona in cui si vede l'intersezione tra mattonelle perché è l'unico punto dove effettivamente effettivamente faremo qualcosa di diverso che lavorare punto su punto quindi porto dentro il filo e lo assicuro parto con una catenella che va a sostituire una prima maglia bassa e poi vado a lavorare una maglia bassa qui a questo punto per passare da una parte all'altra lavoro due maglie basse chiuse insieme quindi entro sempre qui porto fuori il filo vado nello spazio che segue porto fuori il filo e chiudo questi tre anellini insieme e poi sempre qui dentro faccio un ulteriore maglia bassa a questo punto proseguo maglia su maglia così come mi si presentano le maglie ho fatto due giri di maglia bassa e mi trovo in questo punto e inoltre ho marcato i punti in corrispondenza del laterale adesso vado ad inserire l'anellino in questo modo dentro l'anellino ci vado a lavorare tre maglie basse quindi mi devo posizionare in corrispondenza di questa maglia che dovrà essere la centrale e lavoro una maglia bassa prima una qui in riga e una successiva quindi iniziate ad inserire l'anellino quando vi trovate un punto prima del marca punti in corrispondenza del laterale per iniziare faccio una catenella perché ho chiuso con una maglia bassissima quindi prendo l'anellino mi inserisco nella maglia e poi mi inserisco a cavallo dell'anellino prendo il filo e ci lavoro sopra una maglia bassa e faccio lo stesso per la prossima maglia quindi una seconda maglia bassa e ancora per quella successiva a questo punto prosegue a lavorare maglia bassa su maglia bassa e faccio tutto il giro lavorando in corrispondenza dell'altro marca punti nello stesso modo quindi andando ad inserire l'anellino in questo modo quindi l'anellino lo sto cucendo all'interno della della mia poscetta all'uncinetto proseguo quindi e vi faccio vedere come ripassiamo qui sopra perché andrò a fare qualche giro in più per coprirlo parzialmente sono ritornata al punto di partenza dopo aver inserito l'anellino da tutte e due le parti quindi proseguo a fare una serie di giri che mi permettano di raggiungere l'altezza desiderata per questa parte questa fascetta di bordo superiore e allo stesso tempo in base a quanto voglio eventualmente nascondere alla vista questo anellino considerando che comunque lo potrò anche piegare all'interno proseguiamo a lavorare una serie di giri a maglia bassa e tra un attimo vi mostro come lavorare invece un ultimo giro di rifinitura appunto bassissimo quando arrivo all'altezza desiderata quindi dopo aver lavorato il numero di giri a punto basso che mi permettano di raggiungere appunto l'altezza desiderata per questa bordura vado a lavorare in questo modo faccio una maglia bassissima in costa retro quindi prendo solo la pasta retro del lavoro e chiudo con una maglia bassissima faccio così per tutto il giro in maniera da ottenere una piccola impuntatura che vi mostro tra qualche maglia lavorando questo giro di punto bassissimo rinforziamo il bordo e otteniamo questa doppia rega che mi piace per terminare questa fascetta una volta terminato il lavoro all'uncinetto potremo andare ad inserire una fodera di stoffa ed eventualmente anche come nel mio caso un rinforzo in particolare se avete utilizzato il cotone per rinforzare io ho preso un pezzo di feltro l'ho tagliato come la sagoma della borsa un pochino più squadrato quindi in questo modo seguendo questa linea più dritta e poi ho tagliato una fodera che invece avesse la forma completa della borsa e che quindi fodera anche laterali ho inserito la chiusura calamita attraverso entrambe le strutture quindi sia attraverso il fettro che attraverso la stoffa in alternativa potreste anche utilizzare una zip spero tanto che questo video tutorial vi sia piaciuto per farmelo sapere potete lasciarmi un mi piace o scrivermi un commento qui sotto e per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video iscrivetevi al canale ciao e grazie